Questa mattina sono contento di ospitare nei nostri studi una delle realtà più importanti del panorama ecclesiale italiano che racchiude quelle che sono le confraternite, le confraternite italiane e sono contento di avere in studio Monsignor Michele Pennisi, già arcivescovo di Monreale e assistente della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia e il presidente dottor Rino Bisignano. Buongiorno ad entrambi e grazie per essere con noi. Allora partiamo da Monsignor Pennisi, eccellenza voi siete qui a San Giovanni Rotondo perché tra qualche mese questa cittadina ospiterà uno dei raduni più importanti e quindi siete qui per i dettagli organizzativi. Allora lascio a lei la parola per spiegarci un po' il senso di questo raduno che si svolgerà nel mese di novembre. Le confraternite si caratterizzano per cammini fatti insieme, ecco cammini nazionali che ci sono stati ma anche pellegrinaggi. Questo sarà un pellegrinaggio anche in preparazione al giubileo del 2025 ecco proprio per prepararci attraverso un cammino penitenziale ma anche di evangelizzazione a questo evento del giubileo. E sarà fatta a San Giovanni Rotondo, ecco la città ecco legata a San Pio ecco proprio perché San Pio è stato un santo del popolo, un santo che ha coltivato ecco l'amore a Cristo, l'amore alla Chiesa che ha evangelizzato a partire ecco dal suo confessionale. Quindi vuole assumere questo pellegrinaggio una caratteristica penitenziale ma anche di formazione ecco delle confraternite che proverranno da tutta Italia. Ecco proviamo a dare qualche numero allora eccellenza che non sono numeri ufficiali perché il mondo delle confraternite è un mondo potremmo dire in eterno divenire perché davvero racchiude tantissime persone. Allora numeri stime molto attendibili leggo dalla vostra nota informativa le valutano intorno alle 7500. Di queste 3080 sono attualmente iscritte alla confederazione e si stima che gli aderenti siano più di un milione addirittura dunque un numero molto molto rilevante che davvero dà onore alla confederazione. Certamente le confraternite sono una realtà soprattutto laicale che mostra il protagonismo dei laici all'interno della vita della Chiesa. È un mondo variegato, un mondo in cui ecco c'è soprattutto la pietà popolare che viene trasmessa attraverso le processioni ma anche attraverso tutte le manifestazioni di quella che Papa Francesco chiama anche la spiritualità ecco popolare, la spiritualità confraternale. E in questo momento in cui domina da una parte il secolarismo dall'altra parte l'individualismo le confraternite sono invece un luogo in cui si sperimenta la fraternità e la centralità della fede e di Cristo. Stiamo vedendo alcune immagini grazie alla nostra regia tratte dalla vostra pagina social, tra l'altro voi avete un sito internet, l'abbiamo visto prima, una rivista che lei eccellenza ha portato qui in studio, l'ultimo numero eccolo, che davvero in qualche maniera riassumono un po' anche il senso della comunicazione molto importante che c'è nei confronti degli oltre del milione di iscritti come abbiamo avuto modo di dire poco fa. Allora io vorrei approfondire anche questa mattinata nel tempo che abbiamo a disposizione tre tratti fondamentali delle confraternite che Papa Francesco lo scorso anno ha voluto donarvi, potremmo dire così, quando vi ha ricevuti in udienza per il cinquantesimo, per il venticinquesimo anniversario dell'istituzione della confederazione. Sono evangelicità, ecclesialità e missionarietà. Sono tre tratti, lo abbiamo anche ascoltato dalla sua breve introduzione, che riassumono un po' il senso del cammino delle confraternite in tutta Italia. Sì, ecco queste tre caratteristiche sono fondamentali perché l'evangelicità ci richiama a camminare sulle orme di Cristo mettendo al centro il Vangelo, cercando il Vangelo non soltanto di leggerlo ma di testimoniarlo con la vita di ogni giorno. L'evangelicità si esprime anche attraverso la spiritualità confraternale che diciamo manifesta il culto pubblico della Chiesa ma anche ecco le preghiere che le confraternite esprimono. Quindi questo è fondamentale perché senza l'incontro con Cristo le confraternite si ridurrebbero soltanto ad associazioni filantropiche. Invece è importante, le confraternite sono associazioni pubbliche della Chiesa proprio perché promuovono il culto pubblico all'interno della Chiesa. Il culto che certamente ha la centralità di Cristo e la liturgia culmine e fonte della vita della Chiesa. E poi l'ecclesialità perché sono inserite all'interno di un contesto ecclesiale? Sono inserite all'interno di un contesto ecclesiale ma sono anche esperienze ecclesiali di sinodalità. In questo periodo in cui si parla a livello mondiale, a livello italiano di sinodalità, le confraternite come ha detto lo stesso Papa Francesco sono esperienze storiche di sinodalità perché il camminare insieme caratterizza le confraternite non solo nelle processioni ma in tutta la loro vita. Gli organi collegiali vengono rinnovati periodicamente con il contributo di tutti gli associati. Possiamo dire che ante l'Itteram sono stato un'esperienza di sinodalità, di democrazia tra virgolette all'interno della Chiesa. E poi missionarietà. Mi piace riprendere anche uno dei passaggi di Papa Giovanni Paolo II quando nel giubileo delle confraternite, nell'anno santo della redenzione, dunque nel 1984, diceva l'urgenza dell'evangelizzazione esige che anche le confraternite partecipino in maniera più intensa proprio alla vita della Chiesa. E qui appunto il carattere missionario perché da quei colori che abbiamo visto anche nelle immagini tratte dalla vostra pagina social, le confraternite, i membri delle confraternite non possono non essere missionari. Ecco sono missionari perché manifestano pubblicamente la fede ma non solo nelle processioni. Per esempio la manifestano con le opere di carità, la manifestano con il patrimonio culturale che le confraternite conservano e tramandano. Lo manifestano attraverso anche i mezzi di comunicazione sociale. È stato importante che durante la pandemia, essendo difficile l'incontro personale, noi attraverso i nostri mezzi abbiamo fatto una catechesi settimanale rivolta non solo ai membri delle confraternite ma a tutti coloro che si collegavano con i nostri canali. E quindi l'evangelicità si conigua anche con l'ecclesialità ma anche con l'evangelizzazione attraverso anche i nuovi medi di evangelizzazione. E si conigua anche con la carità. Voglio ricordare che durante la pandemia molte nostre confraternite si sono mobilitate creativamente per compiere gesti di carità nei confronti delle strutture sanitarie, nei confronti delle persone malate, per evitare che la pandemia provocasse un isolamento. E quindi mi pare importante quest'opera di evangelizzazione che le confraternite esercitano con grande creatività. E potremmo riassumere allora eccellenza tutte queste caratteristiche nel motto che avete scelto per il venticinquesimo della fondazione della confederazione Pellegrini di Speranza che poi è anche il tema del Giubileo. Tra l'altro voi poi potremmo dire lo inaugurerete qui a San Giovanni Rotondo dunque davvero le confraternite sono segno di speranza per questa chiesa potremmo dire ma anche per la società. Proverei ad estendere un po' il concetto. Certo, Pellegrini di Speranza è il tema del Giubileo del 2025 e sono riservati tre giorni dal 16 al 18 maggio alle confraternite. Ecco noi vogliamo essere segni di speranza per questo puntiamo molto sui giovani. Devo dire che anche le confraternite sono un vivaio di vocazioni al sacerdozio. Proprio noi abbiamo testimonianze di seminari dove ecco per esempio quasi un terzo in qualche seminario dei membri che sono entrati quest'anno appartengono a confraternite e quindi questo significa nella misura in cui noi puntiamo sui giovani a ci apriamo al futuro e ci apriamo alla speranza perché le confraternite non vogliono essere soltanto delle organizzazioni che richiamano al passato. Certo hanno delle radici nel passato ma si protendono verso il futuro. A telecamere spente prima di iniziare questa intervista eccellenza dicevamo del fatto che anche in Europa esiste un bacino forte di confraternite. L'Italia potremmo dire è una delle espressioni più alte ma ci sono anche altri paesi che davvero in maniera importante offrono la propria spiritualità attraverso quella delle confraternite. Dico bene? Noi partecipiamo al forum paneuropeo delle confraternite. Ecco i cui incontri si sono svolti in Svizzera, si sono svolti in Spagna, in Francia e poi prossimo anno in Portogallo, il prossimo anno quest'anno 2024 sarà appunto in Polonia e poi nel 2025 a Roma. Dobbiamo dire che anche si è coinvolta la facoltà teologica di Lugano organizzando dei convegni internazionali proprio sugli aspetti pastorali e teologici delle confraternite. Sono circa 6 milioni forse di più ecco i membri delle confraternite dell'Europa. La parte del leone la fa la Spagna? La Spagna e poi secondo l'Italia. Dunque anche perché in Spagna sono davvero molto belle le tradizioni legate alle confraternite, alcune immagini che vediamo anche sui mezzi di comunicazione ce lo testimoniano. Allora eccellenza io vi ringrazio per essere stati con noi, davvero auguro buon cammino e teneteci ovviamente in considerazione per quanto riguarda le comunicazioni da fare riguardo al raduno a San Giovanni Rotondo ma anche per le iniziative del Giubileo che abbiamo visto saranno molto molto importanti. Grazie e grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie. Restituiamo la linea alla regia. Grazie.